ciao e benvenuto benvenuta nella nostra rubrica è tutto chiaro sono francesca dopo un anno di lavoro effettivamente sono un po stanca e sento il bisogno di staccare la spina conosci questa espressione idiomatica staccare la spina oggi la vediamo insieme attenzione perché staccare la spina anche altri significati oggi ne vedremo uno insieme letteralmente staccare la spina significa togliere la spina da una presa della corrente ma ovviamente l'espressione idiomatica ha un senso figurato significa prendersi una pausa da qualcosa per riposare per rilassarsi per andare in vacanza prendersi una pausa dal lavoro dallo studio dai problemi quotidiani da situazioni stressanti per godersi un po di serenità e di riposo vediamo alcuni esempi una vacanza è montagna è un modo perfetto per staccare la spina e rilassarmi per me a me piace molto andare in montagna oppure marco è stressato per lo studio gli ho consigliato di staccare un po la spina per riprendersi ecco questi due esempi confermano che l'espressione idiomatica staccare la spina significa proprio lasciare da parte lavoro studio occupazioni preoccupazioni per ricaricare le energie siamo nel mese di agosto che è il mese tipico per le vacanze in italia ma io e le mie colleghe continuiamo a fare le le lezioni le nostre lezioni online con quegli studenti che non vogliono staccare la spina all'italiano quindi se tu vuoi studiare con noi ci puoi contattare tranquillamente ti aspettiamo ma abbiamo deciso di staccare la spina per qualche giorno da youtube cioè dalla pubblicazione di nuovi video quindi cosa faremo nelle prossime settimane ti suggeriremo ti proporremo dei video per fare un super ripasso insieme sono video che forse hai già visto o forse non li hai ancora visti bene insieme prenderemo alcuni argomenti e li rivedremo e poi da settembre ci saremo con nuovi video ma sul nostro canale ci sono talmente tanti video che potrai sicuramente continuare a studiare con noi e a migliorare il tuo italiano quindi ti aspetto nelle prossime settimane per il nostro super ripasso ma intanto ti chiedo scrivimi nei commenti qual è il tuo modo preferito per staccare la spina sono curiosa di leggerti ricordati che nella descrizione al video trovi due link per due piccole attività per praticare proprio l'argomento del video di oggi ti ringrazio di aver visto il mio video fino alla fine e ti aspetto al prossimo ciao